I documenti mancanti sono arrivati e Giorgio Pozzi è a tutti gli effetti un consigliere regionale. Lo ha stabilito la Giunta per le elezioni del Pirellone ed il Consiglio regionale. Voto all'unanimità per il rappresentante lariano del PDL, che la scorsa primavera aveva ottenuto un consenso ampio alle elezioni, superando il collega di partito Gianluca Rinaldin, poi ripescato in extremis. Giallo concluso, dopo le elezioni era stato presentato un ricorso sulla posizione di Pozzi, ma lui è riuscito a dimostrare che prima di presentarsi alle elezioni si era dimesso da tutte le precedenti cariche occupate.